Ci sono 12 indagati, fra cui 11 medici per la morte di Olga De Simone, pensionata a 74enne leccese, spirata all'ospedale di Nardò dopo un calvario di quasi 4 mesi ed una serie di trasferimenti da un noso come all'altro. Tutto questo dopo un terribile incidente in città. Era l'8 settembre scorso quando la donna fu travolta da un'auto in pieno centro a Lecce in via Orsini del Balzo. L'impatto fu violento, tanto che le sue condizioni sin dall'inizio destarono preoccupazione. Immediato il ricovero al Fazzi, dove la donna è rimasta per una ventina di giorni circa in prognosi riservata, dapprima in neurochirurgia, poi in terapia intensiva. Fu quindi dimessa, ma una volta a casa cominciò ad accusare forti dolori all'addome. Fu quindi portata a Galatina, al Santa Caterina Novella, per essere sottoposta ad un intervento chirurgico. Ma il suo percorso sanitario non si ferma qui. Ci sarà un'ulteriore tappa, stavolta a Nardò, al San Biasi, per la riabilitazione, ma le sue condizioni precipitano e la mattina dell'11 gennaio il suo cuore cessa di battere. Un vero e proprio calvario per lei e per i suoi familiari che, assistiti dagli avvocati, Tonia, Gigante, Giovanni e Pellerino, vogliono vederci chiaro e capire cosa sia accaduto e soprattutto se ci siano state negligenze da parte dei medici che di volta in volta hanno assistito l'anziana. Da qui l'esposto in procura, il PM di turno, Doratina Buffelli ha aperto un'inchiesta sul registro degli indagati. Si sono finiti al momento 12 nomi, quelli di medici e infermieri degli ospedali di Nardò e Galatina e dell'uomo che era alla guida della Mercedes che travolse l'anziana. Nel frattempo sono state sequestrate tutte le cartelle cliniche ed è stato conferito l'incarico per l'autopsia al medico legale Roberto Baglio, nominato invece come consulente della parte offesa il dottore Vincenzo Garzia.